Manifestazione dei Notav oggi a Chiomonte, un cortevo ha percorso il paese per protestare contro la decisione di avviare i lavori di scavo della Maxi Galleria a partire proprio da Chiomonte. Lo scavo di un tunnel più grande a fianco di quello esplorativo comporterà, sostengono in manifestanti un allargamento del cantiere e la costruzione di un nuovo svincolo autostradale. La sfilata di oggi ha segnato la chiusura dell'iniziativa denominata Walt Sousa con la realizzazione di graffiti e murales di protesta. Grazie. 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 Grazie.